bella a tutti raga bentornati nel mio canale vi invito a iscrivervi a youtube, twitch, instagram e telegram dove organizziamo dropper, aduni, caccia, l'auto e molto altro ragazzi ora vi lascio al video e buona visione bella raga questa qua è la versione migliorata dell'ultimo gift card to friends che c'è in circolazione allora, tanto per iniziare i quesiti, com e veicolo da sacrificare allora, quindi una volta richiamato il com prendete il veicolo da sacrificare e lo inserite all'interno come vi faccio vedere nella clip quindi, una volta inserito all'interno lo tirate fuori e fate salire il vostro amico come passeggero mi raccomando voi che prendete il veicolo dovete avere l'accesso solo a passeggeri quindi, freccia a destra il vostro amico scenderà perché era in pausa lo fate risalire scendete voi fate una volta lo switch di Franklin o anche due se preferite entrate ora vi rannetto la clip qua, state attenti attendete che vi si baga in alto la linea nera a quel punto, una volta freccia giù e A il vostro amico spawnerà nel com e noi siamo in questo caricamento nero a questo punto fate una volta lo switch di Franklin e spawnerete fuori salite sulla vostra macchina da prendere e ve ne andate il più lontano possibile come vi faccio vedere nel video a questo punto quando vi farà questa schermata spawnerete all'interno del com con la vostra macchina io spero che questo video vi è stato d'aiuto bella raga e sbam raga alla prossima con un video ancora più interessante con un video